Frane smottamenti, bucche causate dalla pioggia e strade chiusa al traffico. Sono numerosi i danni sul territorio provinciale causati dal maltempo che si è abbattuto nuovamente sul territorio regionale e che ieri a Urubino ha provocato una vittima, una donna di 49 anni, schiacciata da una pianta e poi deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Al lavoro anche oggi i tecnici del comune e della provincia, le ditte incaricate e i volontari della protezione civile che ieri in modo preventivo hanno sistemato delle barriere con sacchi di sabbia per impedire che il mare allagasse le abitazioni in zona Lebrecce. Continue le richieste di intervento dei vigili del fuoco che hanno ricevuto fin dall'altra notte centinaia di chiamate per risolvere situazioni di criticità come la messa in sicurezza della copertura del tetto del Tribunale di Pesaro bloccando i pannelli con delle corde. A causa di alberi e pali dell'illuminazione pubblica battuti invece hanno chiuso diverse strade poi riaperte nel corso della giornata come via Vittorio Veneto dove un abete è caduto sopra un'abitazione o via Galilei a Sant'Orso a causa di una pianta pericolante davanti alla scuola elementare, sempre per le forti raffiche di vento. Poi è crollato un cornicione nel cortile interno dell'ex caserma Paolini e diversi sono stati distacchi dell'energia elettrica come a Carignano e in via Carlo Levi a Torrette. Come riferito oggi dall'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini la situazione in questi due giorni è stata gestita in modo ordinario. Sono state attivate tutte le procedure ma senza l'attivazione del COC e il centro operativo comunale. Per quanto riguarda le scoglieri invece è stata ricevuta dalla regione la richiesta di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto e dentro alla metà di dicembre 2015 il Comune dovrà consegnare i relativi lavori. Per quanto riguarda la manutenzione stradale invece ci sono delle novità in particolare sul nuovo regolamento per il ripristino delle strade e delle aree pubbliche dopo i lavori compiuti dalle aziende dei servizi. L'atto passerà in consiglio comunale martedì prossimo. Oltre a delineare in modo organico tutte le condizioni e tutte le garanzie vi sono anche delle garanzie di natura finanziaria da richiedere ai soggetti che intervengono manomettendo le sedi stradali o di piazze o di marciapiedi che poi vengono liberate dopo 24 mesi quando si è sicuri che l'intervento finale è stato correttamente ripristinato. È ovvio che questo ha la finalità di migliorare la situazione manutentiva delle strade, delle piazze, dei marciapiedi di questa città. Quindi in concreto se il lavoro non viene eseguito ad opera d'arte? C'è una garanzia fiduciaria a cui il comune può accedere a prima richiesta.